bella qui da canali siamo su battlefield 1 fine campagna il 24 febbraio ci sarà la live ufficiale del canale porteremo station pass faremo qualche parleremo del sì che uscirà a marzo e poi porterò anche battlefield e questa live sarà dalle 9 alle 10 di sera ok penso che sia tutto ci vediamo la prossima bella